Io è vero che sono ternano di adozione, è vero che sono il presidente della ternana, però io quando vado alle partite sono anche un tifoso della ternana, quindi voi mi dovete anche scusare, non sono un tifoso normale, sono un tifoso che vuole vincere, sono un tifoso che non accetta il mosciume, che non accetta proprio nulla, cioè qualcuno delle volte manda il diavolo all'allenatore quando la partita è finita, io ce l'ho lì davanti, lo mando al diavolo a mettere la partita in corso, cioè io delle volte vengo zittito dal professore che sta accanto a me perché mi dice che si ricordi che è il presidente e io gli devo rispondere, io oggi sono tifoso, il presidente l'ho fatto fino a mezz'ora prima della partita, quindi io quel video l'ho fatto da tifoso che parlava ai tifosi e parlavo in modo specifico della ternana, come d'altronde qualcuno mi ha inviato tutte le statistiche per dirmi guarda che i ternani sono tanti ad andare alle partite e non sono mai troppi, cioè se noi oggi vogliamo fare qualcosa di eccezionale come squadra di calcio, qualcosa di come dire bellissimo dato che il nostro stadio purtroppo non ci dà nemmeno quel comfort che ci dovrebbe dare, quando siete sopra gli spalti e urlate e tifate per questa squadra non si sente, cioè in certi casi dentro al campo ci sentiamo anche soli, quindi purtroppo dentro il nostro stadio bisogna veramente essere in 12.000 per avere lo stesso effetto che da altre parti hanno in 4.000, allora la squadra, qui parlo ancora da tifoso, ha bisogno in questo momento di un grande seguito, si deve sentire obbligata a giocare nel modo giusto, quindi è chiaro che dici ma abbiamo una media alta, signori non è mai alta se si vuole fare qualcosa di così importante, bisogna uscire dalla nostra comfort zone, allora è vero alle due, è un orario dove evidentemente qualcuno cambia turno, io ho capito perfettamente, ma alle 4.30 i turni sono già cambiati, ora so anche che ti piovi in testa, che ti bagni, ieri guardavo una foto che mi ha mandato un amico dall'Olimpico con grande invidia, la gente va all'Olimpico vestita bene, cioè con la giacca, la gravata, ci vanno le signore ben vestite, perché non ti piovi in testa, mentre da noi è uno schifo, tutte le volte che viene giù uno scroscione d'acqua, io vedo le cose che succedono.